Racconti al buio di Lina Mollica. Questa sera leggeremo dei racconti davvero particolari perché sono immediati e i protagonisti sono mostrati dal di dentro, istantanee che tratteggiano vite di esseri umani colti nella loro intimità mentale. Una sottile brezza di giustizia superiore che a volte non lascia scampo a chi dimentica o si prende gioco del proprio lato umano. Una giornata di lavoro che si trasforma in un incubo, una resa dei conti verso una fede che non c'è mai stata, un'involuzione della propria coscienza che sfocia in un istinto primordiale di sopravvivenza. Il culmine della volontà di autodistruzione quando si scopre di desiderare di vivere la fiducia come punto di partenza che porta verso l'inganno. Io ho voluto darvi questa intro proprio direttamente dalla quarta di copertina per rendere al meglio il tutto. Poi come al solito il mio quadernino degli appunti sul quale mi scrivo un po' di cose. Vediamo che cosa ho scritto. Intanto vi ricordo che con Lina Mollica abbiamo già fatto una puntata di racconti dal di dentro dove mi sono divertita moltissimo a dare un po' sfogo alla mia teatralità che ahimè è venuta un po' meno da che faccio le letture interpretate e quindi ho avuto occasione di spaziare un po' quella volta. Questa volta spazio in un altro senso. Comunque sono racconti direi con un po' di suspense. Ma sapete che c'è? io comincio. Cosa sto a perdermi in chiacchiere no? Allora partiamo dal primo. Fai del bene senza badare a chi lo fai. Come sempre aprendo gli occhi quella sensazione di nausea l'avvolse. Ci conviveva da anni ed era più potente del caffè. Lo faceva alzare subito. Partiva dal petto come un liquido denso e urticante che bruciava fino ad arrivargli in gola e poi a pulsare alle tempie. Doveva mettersi in piedi per non vomitare. Non era una malattia, non nel modo classico in cui si potessero intendere i mali fisici. Non era neanche una questione psicologica come anni di terapia e valutazioni psichiatriche gli avevano confermato. Come gli aveva detto il suo medico, quello della mutua, guardandolo dritto negli occhi e senza cercare di nascondere la soddisfazione di avere il privilegio di essere proprio lui a comunicarglielo. Era la sua propensione ad odiare le persone e ad essere umano, ad essere un essere umano orribile che gli dava il volta stomaco di se stesso. Era la sua propensione ad odiare le persone e ad essere un essere umano orribile che gli dava al volta stomaco di se stesso. E da buon seguace del giuramento di Ippocrate lo aveva salutato con un per me può anche morire. La mattina la solitudine volontaria a volte lo portava a fare una piccola analisi della sua esistenza per distrarsi da quella sensazione orribile. Nessuna relazione sentimentale perché non intendeva mischiarsi con chi era comunque non degno, cioè tutti gli altri. Nessun amico, perché poi bisognava essere un sostegno per stupidi frignoni che non sapevano affrontare la loro esistenza, ma anche nessun desiderio di socializzare o uno spasmodico bisogno di compagnia stava bene solo. Era vero che odiasse tutti. Non sapeva quando avesse iniziato a capire che il resto del mondo non fosse alla sua altezza, ma probabilmente era stato troppo tardi. Per placare quella sensazione di nausea mattutina, l'unico sistema era inveire, criticare, umiliare, disprezzare chiunque gli stessi intorno. Odiare era terapeutico e non costava niente. Anafettivo, insensibile, egoista, bastardo, stronzo, freddo, morto dentro, schifoso, fetente, razzista, verso tutte le etnie, anche la sua, orribile. Alla fine solo un insieme di espressioni che gli altri usavano per mascherare il loro senso di inferiorità, più che epiteti ingiuriosi, per lui medaglia il valore. Era un uomo non alto, anzi decisamente tozzo, con una muscolatura forte ma in modo rude, senza armonia. I suoi gesti avevano un chiede violento, anche se non erano mai maldestri. Gli occhi erano freddi, lo sguardo sempre fronte a se stesso non lo abbassava mai, come se fosse stato incapace di provare vergogna o rispetto. Con quegli occhi con cui soppesava gli altri nel modo più impietoso possibile, sapeva valutare in un attimo distanze e metrature di qualsiasi posto in cui si trovasse, percepiva immediatamente il quantitativo di spazio che lo avvolgeva. Ne faceva quasi una questione di sopravvivenza, come se il raffronto fra sé e ciò che lo circondava fosse necessario per vivere ed era quello il suo lavoro. Controllare che le misure segnate sulle planimetrie dei luoghi che visitava fossero corrette. A lui non sfuggivano errori di stima di pochi centimetri, con le sue misurazioni permetteva calcoli perfetti su materiale occorrente per qualsiasi genere di impianti. Non era un impegno faticoso, anzi in realtà era solo una costola di un lavoro più ampio, che non spettava però per intero a lui. Doveva lavorare da solo, sempre, a causa dei suoi continui comportamenti che determinavano in profondità la serenità e la coesione dell'equipa detta alla manutenzione degli impianti. I suoi colleghi non sopportavano di averlo in squadra, non sopportavano nemmeno di averlo vicino a mensa. Aveva letto mille volte quella lettera che motivava il suo cambio di posizione all'interno dell'azienda. Non potevano licenziarlo, era il nipote del padrone, ma potevano lasciarlo solo. A svolgere i sopralluoghi in mani per superfici da visionare e difficoltà di raggiungimento dei siti, con la grande speranza che fosse lui stesso licenziarsi, liberandoli da una personalità che non era solo stile, non era l'assenza di educazione, l'incapacità a sorridere o anche solo il fatto che rispondesse con grugniti e ringhi alle domande dei colleghi. Era il disprezzo perenne che mostrava verso tutti come se solo lui fosse capace di fare il lavoro, così lo avevano lasciato solo. Ma siccome odiava profondamente le persone, tutte, quei percorsi in solitaria senza nessuno con cui dover scambiare due parole per forza erano stati una miglioria, che dispiaceva solo per la riduzione di stipendi. Ma vedere che comunque non potessero fare a meno di lui, che praticamente fossero costretti a constatare quanto fosse indispensabile perché non c'era angolo o a un fratto che sfuggisse ai suoi occhi, a prescindere dal parente e ai vertici, era meglio di una grafica economica. Quando da solo effettuava queste visite, trovava sempre qualche oggetto da poter sottrarre e rivendere con calma. I vecchi palazzi e le strutture enormi, come quella che stava per valutare per esempio, avevano oltre ai cimeli storici e artistici spazzatura di valore. Nell'ultimo anno aveva fatto molti soldi nella sua veste di rigattiere e a lui i soldi piacevano. perché poteva togliersi tutti gli spizzi che desiderava alla faccia di chi gli voleva male, cioè il resto del mondo. Si tirò su dal letto permettendo al suo corpo di emettere ogni genere di suono, il bello di vivere da solo. L'acqua della doccia lo fece gemere di piacere, non aveva bisogno di farsi la barba, ma gli dava fastidio lasciarla incolta quando doveva misurare ambienti polverosi perché poi rischiava di avere pruriti al viso per lungo tempo. E di polvere quel giorno ne avrebbe accumulata tanta. Preparò un caffè denso e forte, prese lo zaino da lavoro e uscì di casa. Un vicino lo vide avvicinarsi e abbassò lo sguardo, schiacciandosi contro il muro per evitare di condividere anche solo l'aria con lui. Considerava questi atteggiamenti come timore, si sentiva potente, senza capire la differenza che da sempre esiste tra rispetto e repulsione. Lo evitavano come una malattia, come qualcosa di sporco che facesse male all'anima. Si mise al volante del piccolo furgone, la strada completamente vuota davanti a lui. La luce quel giorno era perfetta, il cielo stava diventando da viola ad azzurro, era limpido e privo di nubi, i contoni degli alberi dei palazzi erano netti, perfettamente definiti. Erano le sette e mezza del mattino, ma lui già intuiva che avrebbe lavorato con le torce solo nei fondi del palazzo, il resto delle misure l'avrebbe preso sfruttando la luce del sole, se tutto fosse andato come previsto. Forse sarebbe riuscito a concludere più di metà del lavoro in un giorno soltanto. Davanti al portone laterale c'era un uomo che lo stava attendendo. Sguardo assonnato di chi di sabato mattina è abituato a recuperare una settimana di fatica, abbigliamento informale da oggi sono in ferie, si accorse di lui solo quando gli fu a portata di stretta di mano. Buongiorno, mi hanno detto di lasciarle le chiavi che potrà mettere nella cassetta delle lettere dopo che avrà concluso il suo lavoro, se finisce oggi o domani, se ne servisse più tempo. Deve solo chiudere tutto. Il custodo quel che era lo fece entrare e lui distinto trattenne il fiato davanti a quel corridoio enorme. Niente più quadri o mobiglia, solo i marmi restavano a guardia di un passato che probabilmente sarebbe stato portato a nuovo splendore dalla multinazionale che aveva deciso di rilevare l'interedificio. Il progetto di riqualificazione prevedeva di restaurare tutto ciò che potesse avere valore artistico ed eliminare tutto il resto, così da avere ambienti vuoti da gestire a proprio piacimento accanto a sale piene di memoria culturale. Allora io andrei, va bene? Le parole dell'uomo lo riportarono alla realtà. Aveva proprio voglia di tornare a dormire questo qui. Certo, mi lasci tutte le chiavi, finisco sicuramente domani lunedì, è troppo grande qui. Il custode lo mise finalmente a fuoco. Ma è solo? Lui annui e prese le chiave della sua mano rimasta mezz'aria, stavano perdendo troppo tempo. Ora tutto l'edificio, tutto l'edificio era vuoto, ma lui doveva controllare solo la parte che era rimasta visitabile negli ultimi anni come ex struttura sanitaria storica, in cui in qualche modo si era cercato di salvare dal tempo e dall'assenza di sovvenzioni un enorme patrimonio culturale. C'era anche una chiesa al centro dell'edificio. Fin da bambino gli avevano insegnato a portare rispetto per quei luoghi. Il segno della croce entrando e uscendo, la genuflessione davanti all'altare, il timore a levare lo sguardo verso tutto ciò che raffigurasse Dio, Gesù Cristo, gli altri. Timore sì, ma spiegazioni poche, trasporto emotivo, nulla. Sapeva di essere profondamente ignoranti nelle questioni religiose, ma crescendo aveva smesso di preoccuparsi anche di questo. Ad un certo punto, ma non con un evento particolare, era diventato apatico, apatico verso ogni cosa, fede ed esseri umani compresi. Dirigendosi verso l'altare aveva comunque apprezzato la luce che illuminava a giorno il pavimento da cui erano state tolte tutte le panche. Cerchi più bianchi sui marmi indicavano dove prima si trovassero candelabri o oggetti che erano stati rimossi in attesa della ristrutturazione. Ovviamente tutte le misure che aveva scritte sui fogli corrispondevano con precisione. Una ventata di aria improvvisa, fredda e intensa, fece volare polvere tutto intorno e dentro ai suoi occhi. Il bruciore fu immediato e provocò una scarica di rabbia che gli fece stringere con violenza le carte che aveva in mano e che stavano per volare via. Qualcosa di aperto, più di un vetro rotto doveva esserci. altro che preoccuparsi di chiudere una porta prima di andare via. Ci vollero alcuni minuti perché terminasse. Con gli occhi iniettati di sangue fece un giro completo su se stesso. Nessuna delle finestre in cima alla navata era aperta. Anche la porta che divideva la chiesa da un'enorme sala attigua che affacciava sull'altare era chiusa. Varcò quella soglia per vedere se per caso fosse aperto qualche cosa lì, ma era tutto chiuso. Al centro del pavimento accatastati pezzi di un vecchio armadio e due specie di casse ricoperte da un pesante telo. Ripercorse a grandi passi la strada verso il portone da cui era entrato. Forse il custodio, quel che era, era uscito senza chiudere, ma non c'era niente di aperto da nessuna parte dove fosse già passato. Tornò davanti l'ingresso della chiesa. Voleva trovare l'origine di quella corrente d'aria a livello conscio per chiudere qualunque cosa lasciata aperta. A livello irrazionale perché la polvere nei suoi occhi era stato un vero affronto inammissibile. Forse i suoi stessi colleghi, quando erano andati a vedere cosa ci sarebbe stato da rimuovere, quella che ormai era stata classificata come spazzatura dei nuovi proprietari, potevano essere responsabili di quel colpo di vento. Perché a loro piaceva tanto chiacchierare, ascoltare, che più di una volta si erano lesi responsabili di piccole negligenze. Non avrebbe potuto spiegare il motivo, ma era convinto che per forza la corrente d'aria dovesse venire dal basso. Come da dentro la pancia di quel posto troppo grande per lui. stava umanizzando un ambiente il passo giusto per cominciare ad autodefinirsi. Stupido. Fece un respiro profondo che gli fece ingoiare polvere e lo fece tossire, ma che servì a svegliarlo da quel torpore. Stava perdendo tempo a pensare a sciocchezze. Si girò verso la luce. Avrebbe iniziato dalle stanze alla sua sinistra. Un vecchio ascensore di tipo ospedaliero, di quelli che potevano contenere fino a 15 persone, era aperto nell'inutile e infinita attesa di ripartire. Controllò se al suo interno fossero ancora presenti vecchie targhe del costruttore o pulsantiere particolari molto ricercate nei mercatini di antiquariato, ma non c'era niente di importante da prendere. Mentre usciva dal vano ascensore, gli parve di sentire una vibrazione sotto i piedi, come quella che precedeva la chiusura delle porte, ma non si mosse niente. Probabilmente l'ascensore poteva scendere ancora sotto quel livello ed entrando ci aveva provocato lui stesso quella vibrazione. Non c'era più corrente in tutta quella parte dell'edificio se non quella per l'impianto di antifurto. Fece pochi passi in direzione del primo ingresso, quando un rumore di qualcosa che strisciava pesantemente per terra lo fece girare di scatto. Le porte dell'ascensore si erano chiuse. Il peso, il suo peso, doveva aver spostato qualche blocco metallico o altro e le porte dovevano semplicemente essere scivolate. Spiegazione logica e ovvia, però gli era comunque sfuggito un gemito di paura sorpresa dalla bocca. E aveva fatto un salto indietro, ma era logico, scarsa luce e la polvere gli stavano facendo venire ai nervi tutti quei pensieri che gli si muovevano in testa non come mere considerazioni, ma come lampi di luce fastidiosi. Si stava ritrovando a parlare con se stesso, cosa che odiava fare, forse come coerenza verso il suo modo di vivere in generale le persone o solo perché come i suoi colleghi si vedeva per ciò che era un infinito rompiscatole capace solo di sputare veleno. Decise di ignorare l'ascensore, ma accese la torcia sulla testa anche se effettivamente sembrava inutile. Varcò la prima soglia con passo deciso. La luce proveniente da finestre alte e chiuse che davano sui giardini interni permetteva un'ottima visuale. Per terra macerie derivanti da intono che muro scrostato coprivano interamente il pavimento. c'erano anche vecchi giornali abbandonati un po' ovunque. Mentre prendeva le misure corrette anche sulla cartina su cui però non figuravano piccoli vanni adiacenti, raccolse da terra alcuni interruttori polverosi di ceramica. Da bambino li aveva odiati, ma adesso nei negozi di illuminazione se ne vendevano orribili copie a persone dai busti discutibili. Quindi un piccolo guadagno certo, ma lui serviva di più. Entrò in una di quelle stanze che sulla carta erano mal identificate. C'erano vecchie cassette piene di attrezze arruginite e la catastò con cura vicino all'ascensore, porte sempre chiuse, segnandosi mentalmente di portare il carrello il giorno dopo per fare meno viaggi. Misurò quindi ampiezza e profondità di quella stanza, avvertendo fastidio per il soffitto troppo alto che sicuramente in altri ambienti aveva permesso la creazione di due vanni distinti. La luce arrivava dalla camera accanto, ma non rischiarava abbastanza da vedere le linee del muro finire in modo netto. Quel posto non gli stava facendo bene. Era stata una settimana pesante, piena di trasferte in posti assurdi. Probabilmente era stanco. Un pensiero gli attraversò la mente. Forse i suoi colleghi lo avevano mandato lì proprio a fine settimana perché si sentisse male. Forse avevano lasciato apposta aperta la qualche finestra da qualche parte per farlo spaventare. Forse avevano fatto qualcosa all'ascensore sapendo che ci sarebbe entrato. Forse. Si passò una mano sul viso, era solo stanchezza, nessun complotto e poi alla fine, a parte un pochino d'aria, un ascensore rotto e una seria ma solo sua, difficoltà con gli ambienti grandi e non c'era niente d'altro. Riprese completamente il controllo di sé. Aveva trovato una serie di vecchie macchine da cucire industriali e vecchie morse che sarebbero state pesanti da trasportare anche col carrello. Bisognava avere tempo. Lavoro ufficiale sabato e lunedì. Spesa, domenica. Poteva chiudere e andare a casa per quel giorno. Il rumore di qualcosa che cadeva, forse solo scivolava sul pavimento. Lo fece sussultare nuovamente. Non c'era niente però che avesse cambiato posizione. Si affacciò sulle stanze più vicine cercando traccia di uno spostamento di polvere o di un evidente ingombro nuovo sul pavimento ma niente. Solo e soltanto un'impressione data dalla stanchezza di fine giornata. Bastava chiudere tutto e tornare a casa dove tra cibo saltava sempre il pranzo quando lavorava e la doccia avrebbe preso lucidità. Si avviò deciso verso l'ingresso principale ormai immerso nel buio. Il rumore fu forte, pulito, vero. Un colpo come sferrato al muro come qualcosa che precipitava al suolo. Si girò di scatto puntando istintivamente lo sguardo e quindi la torcia sugli oggetti accatastati. Tutto era immobile. Topi, sicuramente corrono nei muri ma il cuore gli stava battendo troppo forte nel petto. Ma non si era spostato niente. A lui non sfuggivano i cambiamenti di ambiente. Mai. Vattene, vattene ora, pensò mentre a grandi passi tornava verso l'ingresso. Più avanzava più alle sue spalle cheggiavano rumori sordi. Sono i tuoi passi imbecille, sono i tuoi passi. Sei nel vuoto dove rimbomba tutto. Ma si mise a correre. I rumori sordi continuavano a seguirlo con una cadenza più lenta. Anzi, sembravano scanditi dal loro stesso eco che aveva adesso qualcosa di solenne. Il respiro gli si era fatto corto. Raggiunse il pesante cancello con le mani tremanti, varcandolo con il terrore che si chiudesse su di lui o che qualcuno o qualcosa la ferrasse prima di mettersi in salvo. Ma niente o nessuno gli impedì di chiuderselo alle spalle. Bloccò con cura il pesante lucchetto che stringeva la catena che aveva sostituito la serratura. alzò la testa per guardare i suoi oggetti. Erano perfettamente visibili. Nonostante il fascio di luce della sua torcia non potesse arrivare a illuminare a quella distanza. La luce proveniva dall'interno dell'ascensore le cui porte erano aperte. Si portò una mano alla bocca per impedirsi di urlare. Sei in salvo, sei oltre, hai chiuso, vattene, vattene, vattene. Sempre con la mano sulla bocca si mise ad annuire al buio e fece qualche passo indietro nell'attimo in cui finalmente decise di girarsi per guadagnare le scale e quindi l'uscita. Sbatte violentemente contro qualcosa, qualcuno, e finì a terra. Mentre toccava il pavimento, la torcia illuminò una figura completamente nera. ve l'avevo detto che avrei letto tanto e che mi sarei stancata tanto. Non è finito. Non è finito perché secondo me vale la pena che scopriate voi, guardate quanto ancora, quanta ansia si può respirare in questa lettura ma ho proprio voluto appositamente trovare un punto dove fermarmi e ho voluto portarvi con me lentamente in questo percorso perché quando io l'ho letto mi rendevo conto di avere l'attenzione di dire dai e dai adesso giro pagine e succede qualcosa e basta parlarmi di lavoro, basta voglio capire che cosa succede. E quindi se mentre leggevo voi avete pensato sì che palle però basta faccio arrivare al punto, vuol dire che sia io che leggo che Lina Mollica che è l'autrice di questo racconto ha esattamente compiuto la sua opera, il suo desiderio, l'ansia di arrivare. Ora io bevo un bicchiere d'acqua e aspetto che voi mi diciate qualche cosa rispetto a questo primo racconto perché poi cambiamo completamente registro ovvero parliamo sempre di persone particolari perché questo ve l'abbiamo, ve l'abbiamo io e Lina raccontato all'inizio quindi sono persone con un sacco di problemi interiori quindi è il loro dentro che parla al loro fuori però adesso bevo e aspetto qualche vostro commento. Nel frattempo saluto Gabriella Doagio, Paolo Restuccia, Federica Candido ciao che ti ho visto quando stavo per iniziare a leggere non ti ho salutato prima, Federica Battini che guarda e va perché sta lavorando e direi che Andrea Fulgheri, Andrea Fulgheri è uno scrittore che ho conosciuto a Cagliari che mi ha regalato un bellissimo libro del quale ho fatto un'autolettura ovviamente Andrea lo sai che io sono un po' sciroccata e quindi non ricordo i titoli se cortesemente vuoi scriverlo tu se sei ancora qui con noi mi fa piacere dire titolo e autore perché mi piacerebbe che le persone insomma magari comprassero anche il tuo romanzo visto che è bellissimo. Ciao Luci bravissima, bene la Gabriella si è tolta dall'imbarazzo, qualcuno mi scrive qualcosa, Alina sei svenuta? Ecco che Andrea scrive grazie Lucia ma figurati Andrea scrivimi per favore il titolo del romanzo che io sto leggendo. Mentre aspettiamo qualche commento perché sono già le sette e io voglio assolutamente leggervi ancora due racconti. sette, sette e un quarto, sette e mezza, arriviamo proprio in zona Cesarini eh. Qui c'è un silenzio imbarazzante. L'ingannevole cuore di un giovane vecchio. Ecco questo è il titolo del libro di Andrea Fulgheri, compratelo perché è veramente veramente bello. Racconta un po', forse per certi aspetti vuole vuole ricordare un momento della vita di Andrea, quindi c'è un momento autobiografico sicuramente, ma non voglio anticipare nulla. L'ingannevole cuore di un giovane vecchio. Allora, visto che non mi calcola a parte Andrea e Gabriella, non mi calcola nessuno, io procederei con questa lettura. Andrei a leggere il secondo racconto perché questa sera siete veramente veramente poco interattivi. Spero che non sia colpa mia. Allora, sapete che c'è? Io vi leggo prima il terzo e poi il secondo perché questo non posso... Allora, oh, Lina Mollica si esprime e dice, ogni volta che ti sento leggere le mie parole l'impressione è che siano nuove. Oh, che bello! Grazie, Lina! Cominciavo ad avere un po' d'ansia, ho detto, oddio, magari non gli è piaciuto. Emozionante! Bene, sono molto contenta. Allora, io adesso vi leggo un racconto. Ho impiegato un po' prima di decidere se leggerlo o no, perché a volte è difficile non emettere giudizi e nella prima parte di questo racconto è fondamentale non farlo. E io l'ho letto più volte prima di decidere di leggerlo, poi ho pensato un po' per la mia venatoriale che esce fuori. Un po' perché mi ha incantato questo racconto nella sua veridicità e nello scoprire di quanto le donne... scusatemi maschietti... di quanto le donne a volte siano veramente avanti. Quando si dice che dietro un grande uomo c'è una grande donna, a parte il fatto che questa cosa del dietro mi dà già fastidio, direi, a fianco, ma questo è un racconto che veramente... è inutile che continui, no? Ve lo leggo. Però vi leggo quello che ho scritto. Non emetto giudizi. So per certo che possano esistere coppie come quelle che sto per leggervi. Ripeto, mi limito a leggere e anche voi astenetevi dal giudizio. Rimanete in ascolto e basta, se potete. Voglio dimostrare in questa lettura... Voglio dimostrare con questa lettura che il sesso non basta. Al femminile Il dolore che arriva senza avviso, intenso, pieno, desiderato. Vuole perdere consapevolezza di se stessa sotto la sua forza. Vuole che lui le imponga la sua volontà senza darle possibilità di evitare niente. Lei non vuole avere speranza. Da quando è con lui vuole solo quel modo di essere amata. E lui vuole la stessa cosa, possederla come se fosse un oggetto che però in fondo lo possiede. Non vive senza lei, non vive senza lui. Lui la prende con forza e la piega sul letto. Lei chiude gli occhi e aspetta di poter soffrire per farlo godere. E di estasiarsi di quella dipendenza che lui ha di lei. Eccolo lì. L'uomo che credeva fosse fatto per lei. Eccolo. Nei suoi limiti e nelle miserie da essere umano all'antitesi di un principe azzurro. Davvero aveva potuto pensare che niente di quello che sapeva da sempre sulla differenza tra lei e lui sarebbe rimasto chiuso nella sua testa? Un modo di essere che con lei non aveva nulla a che vedere. Fin da subito lo aveva notato, per la differenza nell'attenzione alla cura di sé. Lei, puntualmente vestita sportiva, comunque comoda, borsa a logora dalle soste a terra accanto alla sedia di ristoranti o bar dove consumava qualcosa, scarsa preoccupazione a passare in mezzo a due auto che potevano sporcarle i vestiti, trucco solo la mattina che mai ritoccava. Lui, linea invidiabile, vestito sempre di tutto punto, cintura coordinata a colore dei calzini, viso liscio senza occhiaie fino a sera. Lui era un professionista, laurea in giurisprudenza, che gli permetteva di sentirsi al riparo da stupidi fassi falsi. Lei sembrava solo in ordine e non sicuramente a capo di qualcosa. Lei viveva e respirava per i figli. Nessun posto era troppo lontano da raggiungere, nessun orario troppo assurdo per fare la mamma. Lui, lui voleva bene, i suoi ragazzi erano la sua vita. Ma se c'era un aperitivo in più da prendere faceva lo stesso, se non era a tavola con loro la sera. Le orarie erano inflessibili perché lui il giorno dopo doveva necessariamente lavorare e non andava bene fare da autista nel dopocena. Lei chiedeva sempre scusa perché temeva sempre di sbagliare. Lui mai, perché non commetteva errori. Lui si riteneva indispensabile, a volte il migliore, spesso con ragione. Lei invece sapeva di dover lottare per restare presente a chi amava. Lui era sempre convinto di avere in mano tutti i suoi perché. Lei si dilaniava in pensieri e ragionamenti per evitare di fare errori. Entrambi erano corretti col resto del mondo. Entrambi credevano nell'importanza della famiglia e dei figli. Entrambi sapevano di essere uniti e poi c'era fortissima e imprescindibile la trazione fisica. Potente, a tratti devastante nelle sue derive, complicità ai limiti dell'annullamento delle diversità tra uomo e donna. Vicini erano un qualcosa di incommensurabile, di ancestrale. Nei momenti di intimità il resto del mondo scompariva, ma anche quando era presente era sempre secondario al loro bisogno di aversi. Insieme erano sempre stati perfetti. Lei voleva vedere quella perfezione. Aveva fatto di tutto per continuare a credere in quella visione, solo che la realtà era un'altra. La mano che serra la gola è il gesto istintivo decisamente assurdo e paradossale di trattenere il fiato. Eppure lei lo fissa negli occhi, lo sfida a stringere di più e a lungo. Lui la guarda, il desiderio di usare la forza su quel collo esile, facilissimo da spezzare, è incontenibile. E quello sguardo di sfida lo eccita. Allenta la presa. Lei ha già leggermente cambiato espressione e si vede che sta male a non respirare. Desiderano entrambi fare e subire qualunque cosa, ma sanno fermarsi. Riescono sempre a fermarsi. Lei gli sorride. Il piano è completamente differente da qualunque relazione intima loro nota. Sono diversi da sempre. E adesso sono in quella dimensione fatta di dolore, dominazione e umiliazione reciproca che nessuno può capire. Lei vuole le sue mani addosso con violenza. Vuole i segni sulla pelle che deve poi nascondere per quieto vivere civile e che invece, per indole, ostenterebbe davanti a tutti e in tutti gli ambienti. Lui, lui vuole la possibilità di sfogare quella forza che da sempre gli scorre nel corpo, quell'aggressività che forse non è innata, ma che è cresciuta di smisura negli anni e che non può mai mostrare perché il suo ruolo prevede attitudine alla diplomazia e al controllo. Ma quando sono insieme, lontani dalla vita pubblica, allora avviene l'esplosione. Una delle cose necessarie al mantenimento del loro equilibrio quotidiano era racchiusa nel fatto che lei avesse un lavoro molto semplice e comune, di responsabilità limitata, con orari flessibili ed esigui, visibilità, nulla. Quel lavoro gliel'aveva trovato lui, ma lei era riuscita a dimostrare di meritarselo, sempre. Era al suo fianco in ogni scelta e decisione, ma non in modo palese al mondo. Solo che ad un certo punto le cose erano cambiate inaspettatamente. Lei aveva avuto un'idea, semplice ma efficace, di quelle piccole intuizioni che possono rivelarsi decisive per un cambiamento radicale. L'aveva trasmessa ai suoi superiori, che però avevano capito quanto lei fosse fondamentale nell'esecuzione del progetto che le era venuto in mente e di cui solo lei all'inizio poteva vedere il prosieguo. Avevano fatto in modo che potesse essere l'artefice di un vero successo, perché andando avanti era diventato chiaro a tutti come fosse consapevole di ogni decisione. In meno di un mese si era ritrovata a parlare con esponenti del comune e poi della regione. Inizialmente lui era stato accanto molto entusiasta di ogni risultato. Le raccontava e spiegava come rapportarsi con certi personaggi del mondo politico e sociale con cui lui aveva a che fare ogni giorno. Con il tempo lei, come se fosse diventata indipendente dai suoi consigli, capace di gestire da sola un lavoro che a lui sembrava troppo importante per affidarlo a lei, pur ammirandola ovviamente. Naturalmente le aveva nascosto le sue perplessità, anche perché si trattava di un momento sicuramente passeggero, una bella bolla di sapone che non sarebbe durata, fino a quel pomeriggio in cui le loro vite si erano incrociate attorno ad un tavolo di progettazione. erano arrivati assieme, orgogliosi l'uno dell'altra, tenendosi per mano. Lui si era sentito in dovere di presentarla a tutti, ma già la conoscevano. Anzi, alcune personalità erano più cordiali con lei, non solo perché si trattasse di una donna. Lei aveva un modo di parlare molto rilassato, fluido eppure saldo. La conosceva da una vita, ma quel modo di fare gli era sembrato nuovo, come nuova era quella sicurezza con cui si rivolgeva a tutti, spiegando non un progetto lavorativo, ma dando quasi le coordinate di un essere vivente. Parlava di quell'idea con una passione contagiosa, con ironia, con certezza. Le sembrava bellissima, ma distante da lui anni luce. Come guardare una cosa non sua. Eppure lei parlava, soprattutto guardandolo negli occhi, segretamente emozionata per avere l'occasione di mostrargli che finalmente, di diverso dal suo modo di essere donna, aveva qualche cosa, qualche cos'altro. E più lei si infiammava per la felicità di essere finalmente all'altezza di lui, più lui cominciava a tremare. Perché non era più il suo compagno. Lui era lì ed era uno come gli altri astanti, era un semplice uditore. Un reflusso acido di orgoglio gli era sgorgato velenoso dall'anima ed era arrivato in testa. E lui aveva agito con l'istinto animale che lei accettava perché lo adorava solo nell'intimità. L'aveva zittita dicendo un no secco ad una sua proposta di lavoro comune. Lei si era bloccata di colpo. Probabilmente uno schiaffo le avrebbe fatto perdere meno la parola. Lui si era alzato e si era messo a spiegare con tono calmo e tranquillo che la proposta di sua moglie, caso mai qualcuno non avesse più ben chiaro l'ordine di appartenenza, era perfetta e sicuramente destinata al successo. Ma che non fosse la sua compagna la persona adatta a portarla avanti. Bravissima e preparata, secondo lui, però non era il caso di esporla. Ovviamente il tutto per amore, a quell'ambiente marcio e cattivo del mondo in cui si sporcavano tutti le mani. Quindi o si permetteva a lui di starle accanto, come osare di pensare diversamente, o sarebbe stato necessario passare il lavoro a persona più avvezza a certe realtà. In sala era calato il silenzio. Lei lo aveva fissato dritto negli occhi. Lui aveva sentito ogni parola che aveva pronunciato come se non gli appartenessero, consapevole del suo misfatto ma incapace di fermarsi. L'aveva fissata con gli occhi amorevoli di chi spera di far credere di aver fatto un'opera buona invece che una caroniata. Lei gli aveva sorriso. Con lo stesso tono di lui aveva ringraziato il marito di tanta attenzione e si era subito detta disponibile a condividere o addirittura a cedere il comando. Quelle parole lo avevano fatto star subito bene, tutto era rientrato nella più classica normalità. Avrebbero lavorato insieme, quella sera avrebbero festeggiato nel letto questa nuova occasione di essere l'uno con l'altra in una dimensione a loro preclusa fino a quel momento. In un attimo si era rinvigorito e sentito potente di fronte agli altri perché quella donna meravigliosa era la sua. Lei si era seduta con un dolore dentro ingestibile ma aveva continuato a restare impassibile, cordiale e propositiva. Naturalmente nessuno si era permesso di suggerire qualche nome diverso da loro. Tanti avevano fatto un sorriso da maschi che vedono rispettate le girarchie e sono felici. Pochi avevano guardato lei con compassione e lui con disprezzo. Ma le mani si erano strette comunque nel sancire una nuova via d'azione. Lui l'aveva riportata a casa sommergendola di parole, di promesse dove imperava un noi che lei aveva deciso di accettare con amore perché non era stato a quel tavolo che lui l'aveva davvero delusa. Lì, lei ne era certa, si era mossa in lui la paura di perderla, il terrore di condividerla con altri e non potendo trovare altre scuse per lavorare con lei l'aveva pubblicamente sottovalutata, sottostimata. Ma era solo amore e gelosia. Non l'aveva delusa nemmeno nel letto quella notte creando come sempre quell'alchimia per la quale si sentivano invincibili come coppia anche di fronte alla vita. Si guardano, gli occhi negli occhi eppure il loro corpo nudo è presente nella sua interezza ad entrambi. Lui si avvicina, lei sente un brivido di passione scuotere tutto il corpo e geme. Lui la schiaffeggia, vede il viso di lei che si sposta dall'altra parte mentre cerca inutilmente di assorbire il colpo. Cerca il suo sguardo, deve capire se ha fatto troppo male. Gli occhi di lei sono famelici, ne vuole altri, più forti. Lui sa che non deve fermarsi, se non l'attimo prima di farla svenire. Lei gli offre il viso, vuole sentire le guance bruciare. Lui la trova bellissima in quel buio dove solo le linee del corpo hanno un loro senso. Ne ha sopraffatto, deve abbracciarla. Lei si lascia stringere fino a non avere più fiato. Lui le sta chiedendo scusa. Se le farà abbastanza male da farla godere, lei lo avrà perdonato. E lo conosce da sapere che verrà contentata. Si sfila dalla braccia e si sdraia sul letto con le braccia allargate. Lui si avvicina e le afferra le gambe con forza. Adesso è il momento di farle sentire fino in fondo chi sia il padrone. I giorni avevano ripreso a scorrere normalmente. Il loro progetto prendeva forma. Lui le lasciava carta bianca su tutto. Alle riunioni la lasciava parlare perché ne riconosceva la bravura. Ma lei notava come fosse sempre lui il primo a prendere la parola e iniziare il discorso. Solo dopo le cedeva il passo con amore. Ma lei sentiva il peso di quella concessione in fondo inutile che lui le faceva sempre. Lui era accanto a lei come un'ombra avvolgente. Il sole era solo per lui. Perché lei avrebbe brillato sotto quella luce in un modo che lui non sapeva gestire. E altri le sarebbero arrivati vicino. Troppo vicino. Ma c'era anche un'altra ragione che lei sapeva senza mai confessarsela. Piccola e inammissibile. Lei avrebbe messo in ombra lui. E dopo una vita passata dimostrare di essere il migliore, quello che tutti e tutte dovevano volere accanto, quello che tutti dovevano notare sempre. Essere messo da parte da sua moglie era inaccettabile, pur amandola con tutto se stesso. Ad un certo punto lei aveva smesso di notare tutto perché l'amore cancella tante evidenze. Erano una coppia che lavorava insieme. La sua idea era ormai anche di suo marito e come nell'intimità erano una cosa sola. Ma non aveva messo in conto la stanchezza. L'energia che da sempre aveva nel fare tutto, le aveva dato in ogni istante la forza di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Ma un pomeriggio, a fine di una riunione, dove lei scalpitava per tornare a casa perché era anche responsabile dell'andamento familiare. Mentre lui continuava a dilungarsi in quelle che chiamava discorsi di circostanza e che in realtà erano solo autocelebrazione, era successo l'imprevisto. Lei aveva deciso di agire di forza e presolo per mano. Gli aveva detto come fosse tardi e che ormai bisognasse andare. Lui, lui era inebriato dall'attenzione di un assessore che per anni lo aveva snobbato e che sembrava in quell'istante pendere dalle sue labbra. Aveva fatto un'uscita veramente infelice. Perdoni mia moglie, insiste ad accompagnarmi a queste riunioni ma poi si annoia, vuole tornare a fare la mamma. Se la lascia a casa però dice che la trascuro. Sa come sono le donne. Lei aveva ammollato istantaneamente la presa della sua mano. A lui era bastato quel gesto per accorgersi dell'autogol, anche se non riusciva a percepire cosa potesse effettivamente averla offesa. Si era girato piano a guardarla. L'incontro con gli occhi di lei era stato orribile. Non era disprezzo o odio o rabbia quella scritta in quello sguardo. La delusione. Un abisso in cui lui stava per sprofondare. Lei aveva sorriso. Si era scusata con l'assessore. Effettivamente era stanca e non era al posto adatto a lei. Vada a casa da sola. Tu resta pure qui. Ci vediamo più tardi. Le vere delusioni affettive non si vivono in eventi acclatanti. No, le vere delusioni arrivano nei piccoli gesti, o nelle situazioni abituali o comuni, nelle pieghe già logore della vita quotidiana, nelle parole di sempre che smettono di essere le solite. Inoltre, le vere delusioni sono quelle di cui si è consapevoli da sempre, ma che ci si ostina ad ignorare o respingere o rifiutare. Lui era corso dietro, congedandosi con fretta da tutti, pur cercando di non far traperare l'ansia che lo aveva assalito. Lei camminava in silenzio verso la macchina. Lui l'aveva raggiunta, aveva cercato di scusarsi. Ma tutto bene, continuava a dirgli lei, con un tono in cui niente era posto. Il viaggio era stato pieno solo della voce di lui, che cercava di parlare dei loro progressi, dei loro risultati, dei loro progetti. Lei annuiva o rispondeva con piccoli monosillabi. Quando erano scesi dall'auto, lei lo aveva fissato. Lui si era sentito come spogliato, sezionato e infine dilaniato, tutto in un secondo e nel silenzio. Lei aveva finalmente trovato il coraggio di vederlo per ciò che realmente era, un uomo normale che aveva bisogno di essere visto da tutti. E lei lo amava. Al di là delle sue ambizioni che per lei doveva ammetterlo con se stessa, non avevano alcun valore. Ma si era rotto qualcosa dentro. E i frammenti erano ghiaccio sul cuore. E aveva sorriso. Andiamo a casa. C'era tenerezza nella voce. E in quel preciso attimo tutti i piani su cui era impostata la loro vita si erano ribaltati. Lei era presente. E quello che avrebbe dovuto faticare per dimostrare di valere qualcosa da quel giorno sarebbe stato solo e soltanto lui. Si erano prendi per mano. Per la prima volta nella sua vita lui era un passo indietro e non l'avrebbe raggiunta mai più. Ve l'avevo detto che era forte. Grazie a tutti.